Buongiorno a tutti e una breve info in merito agli incontri di Biblio Counseling. Vi informo appunto che il prossimo incontro lo farò il lunedì 21 dalle 6 alle 8 in presenza a Cuveglio. Come ho già avuto modo di dirvi il Biblio Counseling lo penso proprio come questo piccolo gruppo che è un po' un laboratorio di ascolto, dialogo, pensiero. In questo nuovo incontro abbiamo, dopo aver parlato, fatto tutto un ciclo un po' sulla fiaba, adesso parleremo di comunicazione. Il tema è la comunicazione, come comunichiamo, quanto ci sentiamo compresi, quanto comprendiamo gli altri. Questi gruppi si parte un po' da uno spunto che in genere può essere un racconto, un breve testo letterario, anche una breve poesia, quindi non sempre c'è un impegno precedente di lettura. Questo in genere viene comunque scelto con il gruppo, con questo piccolo gruppo e questo nuovo incontro il tema sarà proprio la comunicazione. Vi lascio un po' con questo spunto che è una frase di Pavese che dice tutto il problema della vita è questo, come rompere la propria solitudine, come comunicare con gli altri e su questo ci confronteremo in un clima proprio di non giudizio, di ascolto, di dialogo. Se vi interessa, se volete partecipare a questo incontro in presenza, contattatemi, scrivetemi. Sono disponibile anche a delle conversazioni individuali, anche online, letterarie, ma contattatemi, scrivetemi e ne parleremo e vi darò delle info. Questo è tutto, vi lascio, vi auguro come sempre delle buone letture e una buona giornata. Ciao!